ciao a tutti questa è la video recensione delle cuffie ripiegabili bluetooth della vantree che mi sono state spedite dalla vantree direct che arrivano in questo bellissimo scatolo vi basterà tirare la linguetta e tirare fuori il contenuto ma lo scatolo si apre si vedono le cuffie all'interno troviamo il cavo molto piccolo per caricare le cuffie il libretto di istruzioni in tutte le lingue anche in italiano un fogliettino un altro manuale di istruzioni in inglese una card dei tappetti di ricambio di misure vediamo se sono differenti si ci sono le small le medium che sono già installate e le large e poi abbiamo le cuffiette fate attenzione quando le uscite perché sono molto incastrate qui dentro e se non state attenti rischiate di danneggiarle ok allora intanto parliamo della parte visiva di queste cuffie le cuffie hanno questo aggeggio che viene messo al collo qui quello che viene posizionato dietro qui dietro troviamo il caricatore la porta per caricare gli auricolari questo viene poggiato al collo come fosse una collana e ha due calamite che come vedete si attaccano per evitare che vi scivoli via la cuffietta oppure se togliete entrambe le cuffiette non vi si muovono e su queste due calamite sono installate il pulsante di accensione questo qui cerchiamo di fare a fuoco ok microfono pulsante del volume meno e più e pulsante di play e pausa le cuffiette anche loro hanno due calamite in modo che quando le lasciate andare loro si attaccano tra di loro e non le perdiamo in giro per la magliettina magari allora queste cuffie costano un pochino di più rispetto ad altre cuffie perché comunque il design è particolare costano in questo momento 40 euro sono scontate del 20% prezzo pieno sarebbe di 50 sono molto belle lo vedete da voi inoltre le potete ripiegare in questa posizione e metterle nello zainetto nella borsetta o dovunque volete tenerle se non volete metterle al collo la batteria completamente carica ci dà una sufficienza di 10 ore di conversazione o di musica e più di 300 ore in stand by quindi se le lasciate appese al collo accese in modalità bluetooth loro stanno connesse cioè stanno accese 300 ore inoltre vibrano quando arriva una chiamata vi vibrerà questo affarino qui che vi indica anche come va posizionato R e L supporta il collegamento di due telefoni insieme e scaricando l'app che trovate qui tramite il QR potrete visualizzare lo stato della batteria sul vostro cellulare cioè lo stato della batteria delle cuffie sul vostro cellulare devo dire che le cuffie si sentono molto bene sono molto chiare, molto nitide e le trovo veramente belle vi faccio vedere come si connettono al telefonino è un S3 vi basterà accendere il bluetooth mettersi visibili e premere il pulsante di accensione delle cuffiette che inizieranno a lampeggiare tenetelo premuto e attivate la modalità ricerca che la cuffia comincerà a lampeggiare in rosso e blu a questo punto fate la ricerca pure sul telefono e in fondo troverete gli Amantree NB02 come vedete questo è un Samsung S3 vecchiotto molto rispetto alle nuove generazioni e si è connesso senza problemi io devo dire che sono molto belle sono comode soprattutto se facciamo un lavoro che ci tiene le mani impegnate e magari ti abbassi ti scappa la cuffietta dall'orecchio e poi si tira anche via l'altra perché quella pesa devo dire che le trovo molto belle il prezzo ovviamente è ragguardevole non è un prezzo diciamo basso perché 40 euro non lo sono però l'audio è perfetto è entrata, è uscita nessun problema nessuna disconnessione dall'apparecchio assolutamente nessun fruscio nessuna distorsione devo dire che mi ha fatto qualche problema di distorsione quando ho messo la musica a livello ad alto volume devo dire che non riesce a supportare musica con molti bassi e cominci a fare un po' i giochetti comunque bel prodotto non posso dire altro e spero che con questa recensione vi abbia aiutato a capire cosa vi arriva a casa acquistando questo prodotto e vi ringrazio della visione ciao a tutti musica Grazie a tutti.